Se volete acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmi che sono qui di ritorno con le potential transfer di FIFA 15. Se vi ricordate, in quest'estate era uscita questa serie in cui si parlava di trasferimenti dei vari giocatori in occasione del raggiungimento dei 10.000 iscritti, che è proprio a Natale, quindi è una cosa bellissima. Vi porto questa serie, anche se poi di questo raggiungimento dei 10.000 iscritti ne parleremo in un video successivo, in un magari speciale, adesso si vedrà. Vi invito subito a lasciare un bel mi piace, se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace uscirà subito un nuovo episodio di questa serie. Serie in cui, vi rinfresco la memoria, si parlerà dei trasferimenti che sono in trattativa, sono magari anche già in porto, comunque i rumors di mercato, in questo mercato invernale di gennaio. Partiamo subito dicendo che i tre giocatori di oggi riguardano esclusivamente il nostro campionato, quindi la serie A, anzi probabilmente solo Milano riguardano. Partiamo subito con il nome forse più caldo di questo mercato, che tra l'altro non è neanche iniziato. Parliamo di Cerci, Alessio Cerci che questo a giugno, cioè comunque il mercato estivo, si era trasferito all'Atletico Madrid dicendo che voleva andare nel calcio che conta, poi abbiamo visto che non è stato molto decisivo nel calcio che conta Cerci, quindi vorrebbe tornare a giocare, quindi si parla di un suo approdo al Milan. Quindi a Milano, sponda Milan, vero e proprio battaglione di mercato, derby di mercato per accapararsi questo giocatore, in realtà l'Inter aveva, anzi Mancini aveva già l'accordo con il giocatore, cosa che tra l'altro non si potrebbe fare, quindi Mancini rischia anche una denuncia, una sanzione, un deferimento, non lo so, mentre il Milan mette in cambio il prestito di Torres, è uno scambio di prestiti di 18 mesi e quindi sembra avere la meglio, anzi sembra esserci già il sì del giocatore oltre che della società e quindi sembra alle porte questo trasferimento dei due giocatori. Poi magari in un altro episodio parleremo di Torres all'Atletico. Comunque sia bisogna capire dove si collocherà Cerci, visto la partenza di Honda potrebbe giocare come a la destra che poi era il suo ruolo nel Torino e quindi magari la EA cambierà da AT ad AD questo giocatore, adesso poi, o da AD, non lo so, si vedrà quando succederà e se ovviamente si trasferirà a Cerci, anche se sembra, come ho detto prima, alle porte questo trasferimento. Andiamo con il secondo giocatore di oggi, stiamo parlando di Lukasz Podolski che in queste ultime stagioni ha veramente trovato pochissimo spazio nell'Arsenal, giocatore che non ha mostrato quello che molti si aspettavano, quindi per lui c'è area di cambiamento, vorrebbe l'Italia e vorrebbe Milano sponda Inter, anzi forse è l'Inter che vorrebbe lui, ma lui è contento penso della destinazione. Ci sono stati diversi problemi riguardanti il suo probabile trasferimento, visto che Wenger non sapeva bene se cederlo, visto che comunque penso si parli di prestito anche qui, fino a giugno. Wenger dopo la squalifica, che potrebbe essere anche pesante per Giroud, dopo la testata rimediata a un giocatore del QPR in campionato, potrebbe essere una squalifica abbastanza pesante, oltre ai vari infortuni, potrebbe avere un reparto offensivo un po' scarno e quindi non si sapeva se era il caso di cedere questo giocatore. In ogni caso sembra che l'operazione possa andare in porto perché il giocatore vuole fortemente cambiare squadra, per cui l'Inter potrebbe accappararsi questo giocatore. Secondo me sarebbe un buon colpo perché l'Inter ha bisogno di un giocatore che faccia quello che fa Podolski, un giocatore delle caratteristiche di Podolski. Poi bisognerà capire anche come si collocherà nell'Inter di Mancini, magari giocherà da seconda punta a fianco ai Cardi, adesso poi si vedrà ovviamente. Mentre andiamo a parlare del terzo e ultimo giocatore, stiamo parlando di Lassana Diarrà, che anche lui potrebbe lasciare la Russia per venire in Italia ed andare all'Inter. Anche lui è legato all'Inter, questo giocatore, anzi questo trasferimento è stato fatto abbastanza in segreto, è nelle ultime ore che sappiamo che Diarrà potrebbe trasferirsi all'Inter, in realtà dovrebbe avere anche già affettuato e superato le visite mediche, e quindi potrebbe unirsi alla squadra di Mancini a breve, appena comincerà penso il mercato. Si tratta di un buon acquisto per l'Inter, anche lui penso in prestito. Si tratta di un buon acquisto per l'Inter, perché metterebbe magari a posto la mediana, visto che Villano non ha convinto tantissimo dopo le prime partite giocate. È una carta anche comunque interessante proprio per FIFA, perché come ci dici abbastanza poco costoso, potrebbe essere interessante anche da provare. Comunque, questi sono i tre giocatori di oggi, giocatori interessanti. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, 400 mi piace, uscire a un nuovo video. Importante, vi invito a scrivermi nei commenti, innanzitutto se questa serie vi piace e volete nuovi episodi, ma anche quali sono le rumor di mercato che avete sentito voi, perché ovviamente ho bisogno anche del vostro aiuto per vedere un po' qualche rumor di mercato, qualche trasferimento che conoscete voi, così ne possiamo parlare nel prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!